ragazzi adesso andiamo a fare il personaggio partendo dall'aspetto i capelli un bel biondo la sopracciglia io siccome ce l'ho così lo voglio fare un pò da figlia in drocce come si dice da me parti adesso proprio non ho sbandato totale un abbigliamento allora vediamo un pò messi da spiaggia ma fa vedere che non c'è una foto proprio di niente nessuno l'ho a posto voglio potermi iniziare ragazzi si inizia mi incomincio a fare una passeggiata ovvero chiedo un sentimenti a qualcuno se mi potrebbe dare un passaggio oh oh ah e cominciamo a buona logo subito mi sono fatto notare poi prendiamo un po questa macchinina è gentilmente prestata e andiamo un po a fare il boss penso di andare un po in giro perché chissà se non troverò un personaggio che voi conoscete logicamente benissimo però vedo che qua sono un po scostumate le macchine quindi ci vogliono una buona educazione quindi penso che questa è la mia arma preferita eh chi non lo sapesse quindi incominciamo un po a far da mi sono già auto suscitato da solo no ma guarda secondo me questa è la persona che sto cercando mi sta massacrando ma non voglio fare la fine di fifa perché è stata veramente una grande figura di merda perdere 10 a 0 e me lo ricordo benissima ma questa volta io uso guarda usa tutti gli attrezzi ti dico una cosa questo è bastianic questo è bastianic non tu no bastianic adesso ti massacro io faccio vedere io così impari a venire fino in america se se vieni 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 ti aspetto c'ho un bazooka per te marco non ti preoccupare io mi sto equipaggiando per bene per farti il culo se si 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 io ti equipaggio per bene per fatti la prova la ma proprio la seguo le prove quelle belle su cose ma vieni vieni bastianic vieni vieni andiamo in un posto più tranquillo mi vedi? si mi stai vedendo? ti inseguo bastianic vedi che ti vedo eh lo a noi ma io vedo ma io vedo ultimissima generazione pronto a farti il culo eh attenzione sta venendo pure la polizia o no a noi ti tengo d'occhio noo da star Ohohohohohohohohohohhoohohohohohooh � adesso ti dico una cosa sto andando in un po in cui tremere dalla paura direi guarda sto camminando guarda questo è come guido per strada tranquillamente oh come faccio ma è un tipo pericoloso tu forse non mi hai mai conosciuto ho incominciato a uccidere tutti perché ho mai arrivato a questo punto eccolo qua ma no beh c'ha massacrata fifa ma lasciami io guarda non mi arrenderò mai alle tue discorde quindi fai vedere chi sei marco caccia un peo di palle così ragazzi ecco lì la mia bestiolina poi andiamo direttamente e ci andiamo a prendere il carri amato con questo con questo potrà usare di tutto ma di tutto ecco qua se la tua macchina mi fa paura perché adesso i gnocchetti te li faccio vedere io vedi che gnocchetti vedi 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 vieni a sapere i miei gnocchetti vieni 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 dove sei qui eccole qua oh ma tu puoi avere pure la macchina di batman ecco qua winner ma adesso guarda ma ti dico una cosa quando vuoi tu e quando vuoi tu ci possiamo fare una scherzotta una vecchia scherzotta dall'americano con i pugni con i pugni senza armi marco ti aspetto al molo dove stanno le giostre si subito vengo non ti preoccupare ti vengo a prendere io perché sono un uomo ricco ok vieni 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 sto compaccheggiato con la macchina ti aspetto ecco qua salgo salgo sto talmente le ho fatto una cosa del genere vieni vieni tu che usi solo mezzi di piccola taglia fammi vedere quale che vale vieni vieni però devi scendere dalla macchina devi scendere scendere dalla macchina devi scendere dalla macchina devi scendere dalla macchina vieni 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 questo gioco sta diventando un po troppo violento nei miei gusti avevi una mosca nell'orecchio marco fai attenzione pum te l'ho tolta ti ha pestato tu hai pestato me no 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 marco adesso utilizzi un'arma che si usava nel 1800 ossia il moschetto si 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 vieni vienimi a prendere questa volta sarà un po più difficile vienimi a prendere adesso arrivano pioveranno gli occhetti marco a cazzo che va a me non mi prendi marco buon compleanno ah io io guarda sono ancora in piedi ma sei sicuro che te la sai capare su questo gioco perchè logicamente ma dove sei non ti vedo fatti vedere e vieni ma piglia vieni 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 beccati questo marco come come una quaglia ti colpisco col fucile da cacciatore vieni vieni arrivati a cacciare dove stai ma è possibile che non ti vedo guarda poi mi fai incazzare da morire e mi incomincia a spaccare tutto no 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 guarda a tutte queste uccisioni mi sovra me sto veramente perdendo la pazienza marco adesso io ti aspetto al molo sulla spiaggia e lì dovrei venire senza armi non voglio sapere ok se deve essere deve essere l'ultima scazzottata l'ultima scazzottata nostra al molo e siamo marco adesso da uomo a uomo da uomo a uomo io non ti tengo uomo quindi ho iniziato direttamente no 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 marco no pietà marco pietà chiedo pietà marco chiedo pietà senza pietà senza pietà ti prego marco senza pietà no basta sei numero uno chiedo pietà marco senza pietà tutto è tutto poichino eh no 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 Marco no 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 Marco no cosa stai facendo Marco cosa stai facendo se chiedi perdono io lo smetto Marco ti prego chiedi perdon chiedi perdono no marco ma ti prego non è il bisogno di fare così tu tu non hai bisogno del mio perdono No! No! Marco cosa cazzo stai facendo? No! 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 Ti alleva le sofferenze! Vai! Abbiamo vinto ragazzi! Anche con 22 a 7 uccisioni abbiamo vinto, lo abbiamo ucciso definitamente! Grazie a tutti!